Ben trovati telespettatori del Sassano Questa settimana siamo a Clusone per parlare di ecologia e soprattutto del problema riscaldamento Più 4 gradi oltre la media degli ultimi 60 anni La cosa è preoccupante per tutti, sentiamo cosa ne pensa la gente Fa caldo! Fa caldo? Si è accorto? Fa caldo Come mai? 4 gradi oltre la media di 60 anni Tendenza senza paragoni E soltanto adesso si accorga che fa caldo? E soltanto adesso? No, terribile L'anno passato è stato il più caldo di sempre E i prossimi? Allora potremmo dire che questo è l'anno meno caldo dei prossimi Perché secondo lei questa è una tendenza incontrovertibile? Ma ascoltando quello che si dice sì, dovrebbe essere una tendenza purtroppo incontrovertibile Al di là degli sforzi che non si fanno per correggere la cosa Per cui mi sto cercando un costume da bagno per il Natale prossimo Ecco, esattamente, questa è stata allora altro che 36 gradi Arrivederci Ha sentito che caldo che fa? Sì Come mai? Perché questo tempo è pazzo, come siamo pazzi tutti Perché è colpa nostra? No, non lo so di chi sia colpa però è cambiato tutto Quattro gradi oltre la media appunto è sempre più caldo, sempre più caldo Allora a me piace il caldo, poi sarà quel che sarà Ma è una cosa che, un caso appunto che l'ultimo anno sia stato così caldo L'anno prossimo sarà meno caldo, anzi questo 2023 Cosa si aspetta? Tutti pazzi quindi vedremo 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 E non si fa problemi? No, no, non mi faccio problemi, mi piace il caldo E quindi va bene così per me Erano anni, anni, anni che non vedevo questa temperatura qua Sembra primavera come vedete anche adesso È buono, ottimo Per il lavoro un po' meno Qualcuno dice ottimo, qualcuno dice disgrazia Ottimo perché tanto io sono in pensione Quello che faccio ormai e tutto di più non mi interessa il lavoro Per il lavoro è un disastro Perché il mese migliore per lavorare era ottobre E c'erano 30 gradi Non abbiamo fatto niente, niente Perché non ti viene voglia di comprare il piumino a ottobre? Non si è venduto un piumino e un giaccone Quest'anno non si è venduto un giaccone che uno Nessuno ha comprato un giaccone, una pellicetta Niente, zero, assoluto Maglioncini pochissimi Stiamo diventando un clima tropicale Faremo, non so Venderemo solo roba primavera, estate ormai La roba invernale No, veramente la roba invernale non è andato niente Niente, niente Niente, zero, assoluto Quindi è un dispiacere più che... Lavorativo, dispiacere Per il resto, ottimo Che ti dico, giro in moto ancora tutti i giorni Cioè vado in centro Bergamo in moto Faccio i miei giretti Non l'ho mai fermata Non l'ho mai fermata E qualcuno dice Sì, sì, godiamoci il sole Tra virgolette Sì, godiamoci il calo Tra virgolette Perché ce la fa pagare Le cose da pagare arrivano No, il lavoro è pari a zero Lavoro purtroppo con queste due stagioni qua Il lavoro ormai... Ma dal punto di vista del mondo Della natura Se andiamo avanti così con 4 gradi sempre più Ho visto Anche sulla marmolata Non c'è neve Non ci sono più ghiacciai Niente Per fortuna che ho 60 anni Non vedrò più niente Però i nostri nipoti I poveretti dovranno soffrire I nostri nipotini dovranno soffrire Con questo tipo di clima qua E c'è la possibilità di una controtendenza? Ma può essere Può essere, sicuramente Tu fai qualcosa? No, faccio niente Io vado al mare Sono in pensione Quindi non pensi All'inquinamento Più caldo c'è meglio Tanto morto io Morto tutti Ma la temperatura è un disastro Un disastro Qui da noi Hai visto Acqua Zero Non ce n'è più Metà della gente La gente sta facendo festa Perché oh che bello Che bello Che bello Tutti È bello sul risparmio E il riscaldamento È l'unica cosa di bello Ma non è bello Dal punto di vista climatico Per il mondo Che poi la paghiamo Quest'estate Con l'acqua E è molto Critica la storia Con l'acqua Io vedevo anche lì Alle sorgenti È un disastro È un disastro All'altronde E quindi cosa ti aspetti Per quest'anno Che sia ancora L'anno record L'ho già stato L'anno scorso Sì no Si spera Che faccia Almeno adesso Almeno Un mesetto Adesso In alto Che faccia La sua bella neve La sua bella acqua E che carichi Un po' le montagne Appunto Per poter fare Per poter avere L'acqua D'estate Perché se no È veramente Un problema Possiamo fare qualcosa Ogni singola Ogni singola persona Può fare il suo Si potrebbe fare il suo Ma cosa fai Diti tuo Qualcuno dice Utilizzare meno l'auto Sì Attenzione allo spreco Dell'acqua Sì Però comunque Vedi che Dici che poca roba Quasi tutti Lo dicono Ma pochi lo fanno Diferenziare bene Tutta la spaziatura Sì Però vedi che Sì sì No da poter fare Si potrebbe fare Però comunque Non è Non è Quindi metto il tuo sasso Lo metto nella ciotolina Dei pessimisti Nel mio sasso Lo metto nella ciotolina Quelli che si aspettano Che cambi un po' Qualcosina Sul tempo Ma non solo Io ti parlavo di acqua E tutto il resto Ma poi vedi anche Sul turismo Su uno Sull'altro Sull'altro Su tante cose Meglio così per me Come meglio così Meglio Non è preoccupante Per me Non c'è la neve Non ci sarà l'acqua È arrivata la neve È arrivata Adesso per un po' Non si vedrà più No no Verrà ancora Anche qua Sì L'inverno non è finito Si dice che si aspetta Anche ancora un mese e mezzo Quindi quest'estate Tornerà tutto normale Avremo tanta acqua Avremo temperature più basse Speriamo Speriamo che venga Ancora un po' di neve Lo sa che l'ultimo anno È stato il più caldo Di sempre Sì lo so Lo so Però È stato un caso Secondo lei O qualcosa Effettivamente sta cambiando Cosa che non va La cosa la preoccupa O la lascia indifferente Più l'acqua Da avere Quello si calmerà Mettere bene il contatore Sull'acqua Dimmi solamente Cosa ne pensi di questo caldo Io sono col giubbotto E tu sei col maglioncino Io c'ho la panza Anche io Purtroppo anch'io C'ho la panza No Un po' anomalo Un po' anomalo Quindi Però la bambina È meglio se sta Al calduccio Sei preoccupato per questo innalzamento Quattro gradi in più Negli ultimi 60 anni Rispetto alla media È un po' È un po' Preoccupante Sì Colpa anche nostra Soprattutto Anche nostra Quindi Bisogna far qualcosa Però Vedo che nessuno Ma secondo te Il singolo Può fare qualcosa O sono solamente Le grandi aziende Che inquinano Tutti questi discorsi Tutti possono fare qualcosa Tu cosa fai in particolare Se fai qualcosa Per tentare di Non inquinare Adesso Adesso come adesso Non saprei cosa dirti Però Qualcosina Si potrebbe fare Qualcosina Qualcuno dice Tenere più basso il riscaldamento Non differenziare come si deve Usare meno l'auto Quello si fa Quello si fa sicuramente Quello si Diferenziata prima di tutto Riscaldamento Purtroppo adesso Con la bambina piccola Bisogna alzarla un pochettino di più Però Non Temperature troppo alte Quindi Nel mio piccolo Qualcosina Facciamo Un signore prima Mi ha detto Tutte belle intenzioni Tutte belle parole Però poi alla fine Tutti fanno come vogliono Sì 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 Tutti dicono sempre Facciamo di qua Facciamo di là Facciamo di là Però alla fine Nessuno alza mai un dito Come quando era successa La storia Delle Come si dice Innalzo bollette Buste paghe sempre uguali Andiamo tutti giù a Roma Non è andato giù nessuno Quindi si vede che alla fine Vabbè Non abbiamo neanche il tempo Per pensare a queste cose qua Stanno patendo Stanno patendo Gli impianti sciistici Le stazioni sciistiche Quindi c'è poca neve Mi dispiace A me personalmente Non piace sciare Non sono capace di sciare Però per chi Per chi ama sciare Mi dispiace Sei come qualcuno Che dice Ma no è normale Arriverà a febbraio Arriverà Anche da questo punto di vista Sono già alte adesso Le temperature Mi sembra strano Che febbraio Marzo Si abbassino Quindi sono di quelli Che pensi Che è finita l'estate Cioè che è finito l'inverno No E più o meno sì Sicuramente per gli impianti La stagione è quasi finita Perché di ponti Adesso Non ce ne sono più tanti E di neve nemmeno Di neve Ti arriva Non so quanto è sceso Io comunque ieri O l'altro ieri Non so quanto si è sceso Su in pora Però Se fa due o tre giorni così Se su è ancora tutto verde Quindi Pessimista Mi dispiace per loro No pessimista no Però A me piace la neve Sulle montagne Sulle strade No Perché se devi andare A lavorare così Non è Però Sulle montagne È bello da vedere Quando ti alzi la mattina Che tiri sulle tapparelle Cos'è anche un discorso di acqua Da poter bere Nel salto Ah è quello sì Sicuramente sì Dopo è tutta una conseguenza Se non nevicano d'inverno Dopo te lo porti avanti Tutta la stagione Preoccupiamoci Preoccupiamoci Hai sentito che è caldo Sì A noi freddo 20 gradi sotto zero In Ucraina Ah Qui invece Preoccupate per questo caldo Secondo te Cambia Certo Certo che siamo preoccupati Tanto Io ho sempre caldo Anche quando c'è sotto zero Io ho caldo Ah sì Ottimo Risparmi sul riscaldamento Infatti È preoccupante Questo innalzamento Delle temperature Secondo lei È preoccupante A livello globale Preoccupante la gente Scusi La gente è preoccupante Secondo te è normale Questo caldo? No Per niente Perché ti vedo anche Con la giocca aperta Quindi No no Non è normale Sta andando in tilt tutto Il tempo e le persone Tutte e due vanno in tilt Ed è colpa delle persone? Sì Siamo stati noi È inutile che diriamo Siamo stati noi Purtroppo a distruggere Con la nostra civiltà E il futuro Come lo vedi? Nero Sono molto positivi Lo vedo nero Molto positiva Per fortuna Per fortuna Per fortuna che sono positiva Possiamo pessimista Immagino Cosa si può vedere? Quindi vuol dire Che il 2023 Sarà ancora più caldo Del 2022? Ma penso di sì Che più che andiamo avanti Più ci stiamo distruggendo Per me Non la vedo bene Dopo spero da sbagliarmi Ma è una situazione Che il singolo La singola persona Può cambiare O non ci può Tutti insieme O si fa una cosa Tutti un po' insieme Se no una persona Cosa fa? Uno magari cerca Da fare attenzione Ed è uno l'altro Gli altri invece Se ne fregano È inutile Una persona per me Non può fare niente L'unione sì Magari si può fare qualcosa Ma secondo te le persone Si impegnano Per fare qualcosa? No, no, no Tu? Io so Io cerco Di evitare quello che posso Far meno storie Meno consumi Meno che però Io cerco Però una persona Da sola Come prima Però non mollare Spero da riuscire Tieni duro Finché riesco Tengo duro Dopo pazienza Ok Quando sarò via con la testa No È finito tutto Lei si ricorda Gli inverni così caldi? Mai, mai, mai Assolutamente Cosa è cambiato? La gente Siamo cambiati noi No, ha cambiato il clima Lo sappiamo Ha cambiato tutto Per cui Ma il clima è colpa del clima O il clima è colpa Il clima è cambiato È colpa delle persone Sono mia Ma è cambiato e basta È cambiato e basta Stiamo inquinando un po' troppo Questo povero mondo È esagerato È esagerato È esagerato È vero Potremmo ricreste Chi ha imbrattato Giù al governo Che non sono cose da fare Però Quello che abbiamo imbrattato nel mondo Potremmo è peggio Bisogna pensare anche a quello Stiamo imbrattando il mondo Bella questa Anche con il fumo delle sigarette Stiamo imbrattando Mi non ho detto C'è il tuo viso di Vambo E ti mantieni la borsa Ci fermiamo per la pubblicità Ma restate qui con noi Perché tra poco Sarà ancora Sasson allo stagno Ho sentito che è caldo Che è caldo? Eh A me non mi sembra caldo No Se io fa caldo Fa caldo Come mai? E chissà perché Lei si preoccupa della cosa o no? Non tanto No? È una cosa che secondo lei poi cambierà Tornerà il tempo Il tempo è sempre fatto così Ah ok Da quando è mondo Ah ok Grazie mille Dopo una volta Forse facevano gli inverni Veri e propri No? E l'estate C'erano proprio le stagioni Adesso un po' è mutato Un po' tutto Ti sembra normale questo caldo? Gabri? Boh Non lo so Non ne ho idea No? Non ne ho assolutamente idea Aspetta scusami Sì 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 Intanto abbiamo tempo Quindi secondo te Non è diverso dagli altri anni? Non lo so Non ne ho proprio idea Non Sì fa un pochino più caldo Però non Tantissimo Tac L'hanno misurato 4 gradi Oltre alla media Se solitamente la media in questo periodo era in 6 gradi Adesso ne abbiamo 10 Ho capito Ce la preoccuparsi? Speriamo di no Non so cosa dirti Sinceramente Guarda davvero Non so proprio cosa risponderti E ti aspetti un anno ancora più caldo di quello dell'anno scorso? Oltre i 36 gradi Non lo so davvero Non ti so proprio rispondere Fa caldo Fa molto caldo Lei è serito qui pensando di trovare il fresco Trovare la neve E invece È come essere a rapallo È la stessa cosa Ma come mai? Anzi È come mai Come mai L'inquinamento ci ha sovrastato Ci ha Ci ha praticamente stravolto il mondo Infatti questi paesi Tutti La valle Soffrono tremendamente La mancanza di neve Chi opera nel turismo Dai ristoranti Agli alberghi Ski lift Maestri Noleggiatori E via dicendo Tutta gente che soffre Tanto 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 Una volta la neve ormai Era di casa Adesso qui Natale Voleva dire neve Dicembre gennaio Neve A gennaio piove Poco Ma piove Il serio È asciutto Ma lei se la ricorda L'estate appena trascorsa? Ma come no Ma come no Meno male Meno male che a casa nostra Viviamo al fresco Ma questo è un altro discorso Però il caldo eccezionale Lo paghiamo con un freddo Che non è freddo Ok E infatti siamo più 8 oggi Più 8,5 E non è la temperatura da 9 gennaio Ma secondo me Ha detto una parola Il caldo eccezionale Sarà davvero stato un caldo eccezionale O sarà un caldo nella norma? No No Adesso diventa norma Eccezionale Ma diventerà normal Diventerà sempre così E beh la tendenza è quella I ghiacci che non ci sono I ghiacciai che non ci sono più I poli che non ci saranno più Saranno deserti di rocce E avanti di questo passo Ma la tendenza si può aggiornare? No Dobbiamo cambiare tutti Il tenore e lo stile di vita Automobili, aerei, camion Tutto ciò che inquina Via Riscaldamento, via Bisogna tornare a cent'anni fa E chi torna? Eh Chi torna? Perché si sentono tante cose belle Sì, non bisogna inquinare Ma alla fine quante persone si danno da fare? Lo volete il giubbino, ultima moda Eccetera Volete il vestito Che richiede una certa lavorazione? Tutto aiuta a creare la catena inquinante Sempre più lunga Sempre più lunga Il consumismo Il desiderio di avere, di possedere Cambiare la macchina ogni tre anni Quando c'era il carretto Quanto durava il carretto? Cambiare il telefonino Perché qualcuno non pensa Un telefonino Anche quello? Altro costo Altre spese Altro inquinamento Si butta via L'obsolescenza programmata Che c'è da pochi anni Prima non c'era Si comprava l'oggetto per durare Adesso l'oggetto E' fatto per cinque anni Non c'è più il pezzo di ricambio Le case non fanno i pezzi di ricambio Sii costretti a cambiarla E capito? E' così E quindi nonostante il suo sorriso E' più dalla parte dei pessimisti? No, pessimista no Perché di natura sono ottimista Di natura Ma la china ormai è segnata Se non cambiamo tutti Tutti Io posso fare la mia parte Ma se lei non la fa Lui non la fa Lei non la fa Da solo io non riesco a cambiare il mondo E lei ci crede che... No No Troppi coglioni ci sono Le posso chiedere Secondo lei come mai Questo caldo? Quale caldo? Non ha sentito che caldo che c'è? No Fa freddo Io sto sempre bene Si? Si si Ha visto la temperatura? Di 4 gradi oltre la media C'è da preoccuparsi? Io direi di si E da un po' che anche Ma la gente E la gente si preoccupa? Si preoccupa Che c'è? Oh Qualcuno si preoccupa Non tutti però Dove andremo a finire? A questo non lo sappiamo Qualcuno dice Ma no E' stata un'eccezione L'anno scorso Cos'è caldo? No 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 Non è un'eccezione Questo video la troveremo spesso e volentieri Questa roba qua Quindi vuol dire che l'anno prossimo L'estate è già La neve Penso proprio di si Poca neve quest'anno Penso proprio di si Niente Noi siamo a mille metri Niente E quindi l'anno prossimo Cioè quest'estate Farà ancora più caldo? Si si sicuramente Sarà come l'anno scorso Né più né meno Aiuto Vedrete Ma non possiamo davvero Io non è che io sono un veggete però Possiamo fare qualcosa noi? Singole persone? E che cosa possiamo? L'unica cosa è quella E poi Usare meno la macchina? Si Io non la uso Non fumo Especialmente voi giovani la volete sempre Ah ecco Io non fumo Ok Non uso la macchina Credo fare di più Io non posso fare altro Gli altri dovrebbero farlo Magari il riscaldamento un po' più basso? No No è a 20 gradi Ah Che caldo Che caldo? No Basta a 20 gradi Normale Ok Giusto 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 a 20 gradi Non c'è la stufa che va I calori non li facevano neanche a dare Vabbè Comunque siete ottimisti? No Pessimisti Tiriamo avanti Vediamo Ok Sperando che le cose vadano meglio Ho visto 4 gradi oltre la media temperatura Vabbè fa caldo Piovuto Fino adesso perlomeno ci scaldiamo un attimo Fa caldo Ad Orga c'era freddo Ma non pensi che sia preoccupante questa cosa? Sì certo Riscaldamento E dove andremo a finire? Questo non lo so Io faccio il medico per cui non posso prevedere questo Preoccupata? Sì ma perché continueremo a danneggiare il pianeta Io non ho figli Ma non invidio chi ha figli Perché non gli lasciamo niente Gli distruggiamo tutto Ma possiamo fare qualcosa singolarmente tutti? O secondo lei è una cosa che Le grandi aziende queste cose? No cominciamo No cominciamo A moderare i consumi noi Cominciamo Poi è chiaro Temperature più basse quindi della casa Usare meno acqua Usare meno acqua Cercare di riciclare di più E tutte queste cose Ma quanta gente è sensibile a questo argomento secondo lei? Ma secondo me i giovani soprattutto Sì? Sì Io spero tanto nei giovani che noi vecchi ormai non capiamo niente Dobbiamo uscire dalla mentalità usa e getta Si usa, si conserva, si ricicla L'usa e getta non vale più E poi se guardiamo a quello che succede anche all'estero Sto parlando del Brasile perché Cioè il Brasile ha distrutto di tutto e di più Cosa mi dice? No è cambiato È cambiato tantissimo Quello lo si vede Temperature alte per questo periodo Eh sì E noi poi abitiamo sul laghetto ancora di più voglio dire È tutto qui C'è poco da fare Ma c'è poco da fare invece o c'è molto da fare? Poco da fare intesa non possiamo fare nulla noi Dobbiamo prenderci quello che ci arriva Secondo lei ogni singola persona non può fare Ah certo Assolutamente sì Questo assolutamente sì Sì deve fare la sua parte Sennò andremo ancora al peggio secondo me con gli anni che passeranno Lei se la ricorda? Le statistiche e tutto quanto Ecco le quali statistiche Sì 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 Quattro gradi oltre la media Sì 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 Tendenza senza paragoni Senza paragoni esattamente 2022 è l'anno più caldo di sempre Esatto Cosa si aspetta dal 2023? Spero che tutti quanti noi ci impegniamo a fare qualcosina per quello che è possibile fare Tutto quello Ma si immagina temperature più basse rispetto all'anno scorso? Lo spero che siano più basse Secondo me andranno un po' più ad alzarsi ancora Ah Ed è preoccupazione tanta Tanta Noi siamo sul lago l'anno scorso So che era ghiacciato per cui è stata una temperatura abbastanza buona Ma quest'anno non se ne parla proprio Siamo sul laghetto d'Endine Sì 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 E quindi un po' di preoccupazione c'è Sì 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 assolutamente sì Ha sentito che caldo che fa? Sentito Sentito Come mai? Sta davvero cambiando il mondo? Penso di sì O è già cambiato e ormai ce lo siamo giocato? Non sono all'altezza per rispondere a certe cose So solo che non sono più gli inverni E non sono più le primavere e non sono più le estate Prima un commerciante mi ha detto Non si vendono più giubbotti pesanti Perché non fa più freddo Comunque non fa più freddo Però ci si ammala comunque E quest'estate farà invece più caldo? Cosa si aspetta? Non lo so non mi aspetto niente Mi aspetto quel che venga il tempo Decide lui non decidiamo noi Dice? Invece qualcuno dice che siamo noi con i nostri comportamenti Ieri mattina in montagna nevicava Ieri a mezzogiorno Quindi speriamo che venga in ritardo ma che arrivi Stiamo parlando di cambiamento climatico Ti si accorta che fa più caldo? Non c'è più l'inverno quello sì Non ci sono più le mezze stagioni Ma neanche le stagioni non ci sono più Sì Come mai secondo te? Ma per me è per quello che stiamo facendo noi all'ambiente Tutto qua Semplicemente Noi parlano tutti i giorni Ghiacciai che si sciolgono in continuazione Non abbiamo più la neve Io poi che vengo da colere Per me questo è estate Temperatura Esatto Ma è troppo caldo Sì sì Semplicemente quello Poi magari è un cambiamento che doveva comunque esserci Nella nostra storia Non lo so Però Nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa Quello sì Ma credo che siano i grandi che debbano fare qualcosa Tipo? Fare cosa? A portare dei cambiamenti Anche il nostro stile di vita quotidiano Secondo me Non lo so Cercare di vivere nella semplicità Nelle piccole cose Senza pretendere Chissà cosa Anche se O non so Per esempio Cercare di inquinare di meno Provare il più possibile A non utilizzare Un esempio La macchina Io cerco di evitare La uso solo per il lavoro quasi E poi vabbè Dipende anche dove si vive Ma quanti hanno a cuore Secondo te Il problema climatico? Pochissimi Allora io per esempio Lavoro in ospedale Da noi c'è tantissima plastica Io ogni giorno Butto via plastica La maggior parte la butto Perché comunque L'usegetta è un ospedale Essenziale per l'igiene Però magari certe cose Si potrebbero anche Si potrebbe passare ad altro Oltre che la plastica Ma secondo me Dove si può Bisognerebbe cercare di Evitare C'è Tante cose Tante piccole cose Però secondo me La gente non ce l'ha Non ce l'ha in testa Possiamo tornare indietro? Si Ad avere ancora la neve Come una volta A Natale E magari Le montagne piene di neve Non adesso spoglie Magari anche perché Io mi ricordo che andavo a scuola A volte quando Nevicava davvero Con il Bob Ah Perché vabbè poi Vivendo a colere La neve c'era Io trainavo mia sorella Piuttosto che Andavamo a scuola Perché vabbè Era lì a pochi metri Adesso anche a gennaio Si va in bicicletta No allucinante Allucinante Sì 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 Lui aveva freddo Però no È caldo E hai fiducia appunto Che si possa fare qualcosa? Non lo so Tornerai Non so se sarò in vita Per vedere qualcosa Ah Dici che non sarà Non lo so Non lo so Quello bisogna vedere Diamoci da fare Esatto sì Diamoci da fare Non sarà facile Perché secondo me Ormai Poi sono un po' pessimista Ormai Il cambiamento c'è C'è stato E soprattutto quest'anno L'ho visto Soprattutto quest'anno Con le temperature dell'estate Rispetto all'anno scorso Sì Poi una cosa curiosa Che il periodo covid Ha nevicato tantissimo Non usavamo le macchine Certo quando c'è stato il boom Perché io comunque lavorando Guidavo in mezzo alla neve Tutto Era strano È stato un anno L'hanno notato in tanti Esatto Dici che c'è correlazione Per me Perché magari Non so Inquinavamo di meno Semplicemente quello Perché nessuno Cioè pochi usavano la macchina Queste cose qui Ma Come mai secondo lei Si è alzata così tanto La temperatura Negli ultimi anni Non lo dico a me Ma lo dico a Gesù Perché ci sono tanti Che hanno bisogno Veramente un po' di sol È come da noi In Sicilia In Sicilia Ha detto che c'è un caldo Che si crepe Perché io sono siciliana Però Sono 40 Ho controllato Ho controllato oggi La temperatura A Palermo 19 gradi Ma Eh sì È come da noi Come sono vicino Vicino a Vittoria Altro veloce stacco Con la pubblicità Ma in questione di pochi minuti Restate con noi Tra poco ancora Il sasso Nello stagno Ha sentito il caldo No No Io lavoro al freddo Ah Infatti vedo che c'ha Che Paraorecchie Poi sono vecchio Ma no Il caldo io non l'ho sentito Invece hanno fatto la statistica 4 gradi oltre la media Degli ultimi 60 anni Abbiamo quasi la mia età Con la media lì Ecco Io ne ho 68 Eh E non è preoccupato Per questo caldo Per queste temperature Che vanno su Anche d'estate Se ne sarà accorto Certo che me ne sono accorto E cosa possiamo fare noi Chiedo Possiamo fare qualcosa Certo che si può fare qualcosa Tipo? Bisogna tornare dietro però Meno inquinamento Meno riscaldamento Meno spese Meno macchine Meno tutto Torniamo dietro? Ma tornare Devo dire Ritornare a essere 2 o 3 miliardi Allora arriviamo a dire Come dice quello là Che questa terra Non può sostenere 8 miliardi di persone Cosa dice lei? È meglio restare 8 miliardi no? Eh non lo so guardi Non lo so Con il clima così Vuol dire che il mondo Ma chi è che fa le domande Io adesso Appunto Infatti non sto capendo più niente Vi serve Vi serve un giornalista Prego Prego Lecce dal microfono Vi intervisti Ah no Non è l'antenna 3 Cos'è questa antenna? Antenna 2 Antenna 2 Antenna 2 Come sarà il 2023 Quest'estate? Cosa si aspetta? Una buona estate qua Clusone Poi i milanesi spendono Adesso però sto tirando la Da punto di vista climatico Ancora più caldo del 2020? No Clusone si sta abbastanza bene Dai Stiamo parlando di cambiamento climatico Ti sei accorto che fa più caldo del solito? Eh Abbastanza Non sei neanche coperto più di tanto Non hai giobbotti? Normalmente guarda Eh Sto bene però comunque Sì? Sì Così andiamo a sciare Ah ok Dice che l'inverno non è finito? No Per me no No Fino a febbraio Tu le stai vendendo le cose pesanti? Sì Vanno Guarda I giubbotti? Eh Fino a metà 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 febbraio diciamo Ok E basta Però Sei ancora Ottimista Cioè io comunque vado Vado finché Se c'è fuori il sole E quest'estate sarà Caldissima come la scorsa? Boh non lo so Non posso dire Cioè non posso È tutto Addio E così concludiamo anche questo appuntamento con il nostro sasso nello stagno dedicato al cambiamento climatico Grazie a voi che avete risposto alle mie domande per strada a Clusone Grazie ovviamente a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio della trasmissione Ci vediamo tra 7 giorni sempre qui sull'84 di Antenna 2 TV